Da sabato 3 luglio per un mese si pagherà a metà prezzo il costo del parcheggio nei posti blu all'interno della città di Arezzo per agevolare anche soprattutto la possibilità di fare shopping, stare più tempo con la macchina in sosta. Esatto, voleva essere un'iniziativa per lanciare questo inizio dei saldi che appunto partono sabato 3 luglio che dureranno 60 giorni quindi fino alla fine di agosto ma con questa iniziativa che ha la durata appunto di tutto il mese di luglio vogliamo agevolare appunto l'accesso ai parcheggi a pagamento che avranno appunto una tariffa scontata del 50% utilizzando l'app di Atam. Quindi un'occasione per stare più tempo a fare acquisti, un'occasione per risparmiare comunque sul costo della sosta e per poter anche rinnovare il parcheggio senza bisogno di andare al parchimetro e senza la preoccupazione di prendere la multa. I parcheggi danno una grossa mano anche ai commercianti ovviamente quindi si apprezza tantissimo queste iniziative e poi questa sinergia che è nata tra l'amministrazione e l'Atam e l'associazione è ottima perché così si può andare avanti e fare delle buone cose anche per la città. È un'iniziativa questa definirei dal doppio binario, da una parte che va ad agevolare chi vorrà parcheggiare in centro avrà tutte le comodità di un'app e dall'altra per Atam la possibilità di rendere nota questa app che è abbastanza fresca, abbastanza recente, che è ben fatta effettivamente come ha fatto vedere prima Bernardo e che andrebbe scaricata solo per lo spot con la quale è stata pubblicizzata da Tiziano e da Paolo della Potipicius che è veramente fantastico. L'applicazione che si chiama Atamparking la si può scaricare tranquillamente dai vari siti Android, quindi Play Store o Apple Store quindi è facilmente scaricabile in qualunque cellulare, si attiva, la si può attivare semplicemente con una carta prepagata quindi non c'è nemmeno bisogno di mettere la carta di credo con tutte quelle che sono tante volte alcuni pensieri in questo senso lì hai la possibilità di acquistare la sosta, chiaramente la sosta per il mese di luglio costa la metà, costa il 50% o meno e hai la possibilità, cosa molto importante, di estenderla direttamente dal luogo in cui ti trovi se tu sei all'interno del negozio e stai facendo i tuoi acquisti, hai la semplicemente prendendo l'app, chiedi e stendi sosta e in automatico tu estendi la sosta, quindi non hai bisogno di tornare al parcometro, non hai bisogno di correre il sistema registra il tuo pagamento e tu sei coperto, quindi non hai problemi, non devi pensare alla multa questo è un obiettivo concreto e assieme appunto a Confesercenti e all'amministrazione comunale era un modo vero, concreto, agendo su quella che è la illuzione della spesa di una famiglia perché chiaramente chi va in centro nel mese di luglio ha la possibilità di starci il doppio del tempo perché la tariffa viene scontata del 50%, un modo concreto perché una società pubblica che quella è Atam e il comune, Atam è più o meno una società completamente del comune in associazioni con Confesercenti, quindi con una sensibilità territoriale è un modo per essere davvero vicino alle persone in un momento di ripartenza necessario per tutti Grazie. Grazie.